Ciao a tutti, sono Paolo Giordano e volevo mandare in questo video un saluto ai miei lettori sloveni. Sono molto felice che Divorare il cielo sia stato pubblicato in Slovenia qualche settimana fa. È un romanzo che mi ha impiegato quattro anni di lavoro e altri anni solo per arrivare a concepire quei personaggi e quel mondo. È un libro scritto prima di questa epoca, di questa epoca del virus e della pandemia, ma per qualche ragione mi sembra che sia un libro che si può capire meglio oggi da dentro questa nuova situazione, perché ha al centro il nostro rapporto molto complesso con la natura, da cui in fondo tutto questo proviene. L'idea stessa, la domanda stessa su che cosa sia oggi la natura, e ha al centro anche il nostro rapporto molto problematico con la scienza, con quello che la scienza ci dice, ci chiede, con il modo in cui la scienza a volte entra anche in modo violento nelle nostre vite, suscitando reazioni molto diverse nelle persone. E spero che in questo possa essere non solo una evasione e un viaggio inaspettato per chi di voi lo leggerà, ma anche una chiave di lettura utile e magari confortante per questo presente. Buona lettura a tutti.